Potrei dire che una mostra legata al tema del viaggio era per me una mostra attesa da sempre, una mostra che si giustifica anche grazie al prestito importantissimo del grande quadro di Gauguin dipinto nel dicembre del 1897 nel corso del suo secondo soggiorno a Tahiti, il quadro che ha anche quel titolo assolutamente così evocativo, da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, appartiene al museo di Boston e soltanto per la seconda volta si vede in Europa. La mostra racconta tre tipologie di viaggio, tre modi di viaggiare e quindi tre modi anche di essere se stessi dentro allo spazio. Il primo è il viaggio come esplorazione, la scoperta degli spazi incontaminati ed è per questo che in quel momento lavoreremo sulla grande pittura americana del XIX secolo, poi il viaggio come spostamento fisico, il movimento da un luogo verso un altro luogo, mi verrebbe da dire uno spostamento più di natura europea, più di natura domestica e il terzo modo di viaggiare, il viaggio dentro a se stessi, probabilmente il punto di arrivo di questa mostra a Genova, il punto di arrivo perché il viaggio nello spazio sempre si conclude nei territori della propria interiorità ed è in questo modo che la mostra comincia ed è in questo modo che vogliamo iniziare anche questo nostro viaggio oggi. La mostra parte in America alla metà dell'Ottocento ed è il primo di quattro grandi capitoli, quattro grandi zone attraverso le quali la mostra si sposta perché poi non è soltanto un viaggio negli spazi ma è anche un viaggio all'interno dello spazio della mostra. L'America perché la grande esplorazione, i pittori che seguivano le carovane dei pionieri che dalla costa est si spostavano attraverso il vastissimo territorio americano da scoprire, verso le montagne rocciose e poi per giungere l'Oceano Pacifico, California, attraverso quelli che sarebbero diventati i parchi nazionali Yellowstone, Yosemite, quindi Wyoming, California, queste nazioni che soltanto a nominarle in quel momento metteva veramente un senso di grande emozione e quindi due pittori americani più importanti di quella metà dell'Ottocento che sono Edwin Church, il pittore dell'Est, il pittore delle cascate del Niagara, il pittore della costa del Maine e dall'altra parte Albert Birstadt, un pittore americano ma di origine tedesca che al seguito di queste grandi carovane dei pionieri racconta lo spazio immenso e quindi la mostra parte in questo modo proprio perché il senso del viaggio ad essere raccontato anche con l'idea anche del pericolo, l'idea dell'affrontare un viaggio che non si sa nemmeno se avrà una sua conclusione positiva e felice e per me il continente americano in questa esposizione è veramente questo e non a caso poi questo lungo viaggio verso le coste del Pacifico prosegue con altri straordinari pittori, il primo dei quali è Winslow Homer che è un pittore che vive sulla costa dell'Est, in modo particolare lungo la costa del Maine che è un tratto di costa che molti pittori americani hanno raccontato, hanno descritto con i loro quadri, beh Homer va a vivere nel 1883 in un piccolissimo villaggio di pescatori che si chiama Proud's Neck e questo piccolo villaggio diventa il luogo nel quale lui non soltanto dipinge ma diventa anche il luogo nel quale tutti i suoi personaggi si animano, la cosa straordinaria è che i personaggi di questo pittore americano poco conosciuto in Italia come Winslow Homer, mano a mano scompaiono perché ciò che rimane è il grande spazio della provincia americana, il grande spazio dell'oceano, l'Atlantico che rugisce attraverso le sue onde che si schiantano contro le rocce al punto del Maine e ciò che rimane è questo viaggio dentro ad un silenzio, dentro ad una grande desolazione di luci, di notti, di lune, di grandi onde. Tutto ciò annuncia il più grande pittore americano figurativo del Novecento che è evidentemente Hopper. Hopper si presenta sulla scena della pittura americana quando Winslow Homer conduce gli ultimi anni della sua vita lungo la costa del Maine, oceano Atlantico, parte settentrionale degli Stati Uniti. Quando Hopper giunge in America qualcosa di straordinario accade ed è il momento in cui quel grande spazio che nella seconda metà dell'Ottocento Church e Bierstadt avevano raccontato attraverso i loro dipinti, quel grande spazio entra nel Pieno Novecento nella pittura e lo fa in un modo completamente diverso, non più secondo i canoni del naturalismo, secondo i canoni della descrizione, ma con l'inserimento della nota della introspezione psicologica. Lo spazio raccontato da Hopper è uno spazio completamente diverso, uno spazio pieno di inquietudini e di ansie, uno spazio estremamente moderno. Allora ci ricordiamo, io credo tutti quanti, uno scrittore importantissimo, il padre della Beat Generation, Jack Kerouac, che nel suo libro più celebre On the Road racconta proprio questa grande distesa dello spazio americano. Bene, ci sono le ultime, ultimissime righe del suo libro On the Road che ci dicono proprio di questo spazio e vorrei proprio dire a tutti quanti che questa mostra sul tema del viaggio è una mostra che nasce davvero dalla lettura, dalla rilettura di queste ultime righe che adesso vi voglio brevemente accennare. Così in America quando il sole va giù e io siedo sul vecchio diroccato molo sul fiume a guardare i lunghi, lunghissimi cieli sopra il New Jersey e avverto tutta quella terra nuda che si svolge in un'unica incredibile enorme massa fino alla costa occidentale e tutta quella strada che va, tutta la gente che sogna nell'immensità di essa e so che nell'Ohiova a quell'ora i bambini stanno certo piangendo nella terra in cui lasciano piangere i bambini e che stanotte usciranno le stelle e non sapete che Dio è l'orsa maggiore e la stella della sera deve star tramontando e spargendo il suo fioco scintillio sulla prateria, il che avviene proprio prima dell'arrivo della notte completa che benedice la terra, oscura tutti i fiumi, avvolge i picchi e rimbocca le ultime spiagge e nessuno nessuno sa quel che succederà di nessun altro se non il desolato stilicidio del diventar vecchi, allora penso a Dean Moriarty, penso persino al vecchio Dean Moriarty, il padre che mai troviamo, penso a Dean Moriarty, credo che non ci potrebbe essere nessuna parte migliore di questa per raccontare quanto Hopper ha raccontato, ci ha detto dello spazio americano e per una tradizione che si moltiplica poi negli Stati Uniti un pittore sicuramente molto meno conosciuto rispetto a Hopper, Andrew Wyatt, prosegue quella tradizione lungo la stessa costa del Maine e quindi la costa dell'Oceano Atlantico, raccontando lo stesso silenzio, la stessa desolazione, la stessa solitudine, quel vuoto, quel vuoto quasi plasticato che è la caratteristica principale e fondamentale della pittura americana figurativa, uno spazio che si rovesce ormai sempre di più dentro a se stessi. Il viaggio in America si conclude in un modo molto diverso rispetto a come era partito, non più le grandi praterie, i grandi spazi che i pittori e i pionieri percorrevano dall'est verso l'ovest, ma quello spazio rovesciato dentro i confini dell'interiorità, uno spazio che non è più l'oceano, non è più la distesa verso appunto la California, l'oceano Pacifico, ma è uno spazio invece raccontato da dentro, come se il pittore potesse dire e significare il proprio spazio interiore. Allora Mark Rothko e Richard Dibenkorn sono i due pittori che ho scelto per questo capitolo finale, Rothko sicuramente uno dei pittori più celebri dell'astrazione nel corso del Novecento, Dibenkorn invece certamente molto meno conosciuto in Europa, ma forse il pittore che è meglio di ogni altro chiude questa sezione dedicata all'America, le sue discese verso l'oceano Pacifico nella zona di San Francisco diventano non più degli spazi della descrizione naturalistica, ma invece diventano gli spazi della interiorità, le grandi campiture, i suoi ocean parks che sono il rovesciarsi dell'acqua, dell'azzurro dell'oceano contro il verde del prato che si avvicina alla costa dell'oceano, qui si chiude il viaggio nella lunga e grandissima provincia americana. Lasciati i grandi spazi americani, siano essi gli spazi delle pianure, gli spazi dell'oceano, le coste, le rocce sulle quali sbattono le onde, la mostra torna, anzi arriva in territorio europeo e tornando indietro di qualche decennio siamo nel 1820 e un quadro di Caspar David Friedrich, il principale pittore romantico assieme a William Turner ci immette completamente in questa atmosfera, una barca che nel primo mattino dentro una breve e piccola nebbia percorre il fiume Elba in Germania, è il momento più importante per la pittura romantica al quale farà da parallelo l'attività di Turner appunto in Inghilterra e la mostra avrà una sosta molto importante su questi due artisti in una delle primissime sale di Palazzo Ducale a Genova per mettere insieme Friedrich e Turner il doppio senso della pittura romantica in Europa e cioè il dissolvimento davanti allo spazio infinito, il dissolvimento davanti allo spazio cosmico, l'uomo che non soltanto guarda e osserva ma con Turner addirittura viene immesso dentro quello spazio quasi pericoloso, ritornando ancora una volta al senso della pittura americana e avanti di un secolo Nicolas de Starr, il pittore che dalla Russia arriva in Francia, dipinge l'idea che la natura si sia effettivamente dissolta e scomposta dentro una visione astratta, lo stesso percorso, lo stesso cammino che Mark Rothko ha fatto negli Stati Uniti esattamente negli stessi anni, siamo a metà del ventesimo secolo nel quale de Starr fa la stessa cosa in Europa. Passata l'età romantica, anche in Europa giungono i primissimi anni del ventesimo secolo e così come in America un grande cambiamento avviene proprio all'inizio del ventesimo secolo, nello stesso modo anche in Europa accade qualcosa di straordinario e allora in questa parte della mostra noi vogliamo raccontare un viaggio che anziché portare le persone che lo compiono verso il lontano, quanto più lontano sia possibile, è un viaggio invece che si compie nei brevissimi confini della quotidianità. Allora c'è il viaggio di Monet nel giardino magico ed incantato di Giverny, c'è il viaggio di Kandinsky che dal piccolo villaggio bavarese di Murnau diventa poi il senso più vero e più alto dell'astrazione in Europa all'inizio del Novecento, il dissolversi della trama del colore verso veramente una sorta di grande cielo fatto di enormi comete che piovono da ogni parte e infine il viaggio più breve che sia stato mai possibile immaginare, il viaggio di Giorgio Morandi, il grande pittore italiano che negli anni attorno alla metà del ventesimo secolo si concentra nella sua piccola stanza di via Fondazza a Bologna nel cuore della città, si concentra su quel tavolo, su quel piccolo piano sul quale danzano e stanno a sospese delle bottiglie nel silenzio più assoluto della sera. Il momento centrale di questa mostra è certamente l'esposizione della grande tela di Gauguin dipinta nel dicembre del 1897 nel corso del suo secondo soggiorno taitiano. Nel dicembre di quell'anno, appunto il 1897, Gauguin decide di dipingere una tela che sia una sorta di testamento spirituale. Alcuni mesi prima è stato raggiunto dalla notizia che gli viene data dalla moglie attraverso una lettera che la figlia Aline è morta nel mese di gennaio in seguito a delle complicanze per una malattia polmonare. Gauguin è già particolarmente ammalato, particolarmente debilitato, rispetto al primo soggiorno taitiano dipinge ormai pochissimo nell'aperto della natura e invece si chiude nel suo studio. Nel settembre del 1897 richiede a Parigi ad un amico moltissimi colori e anche dei grandi pennelli. Ha deciso di farsi cucire una tela di 4 metri per poter dipingere appunto il suo testamento spirituale prima poi di togliersi la vita, perché questa è la decisione di Gauguin. Dipinge allora quel quadro celeberrimo, veramente una sorta di gioconda dell'impressionismo, che si chiama Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. È un po' veramente l'emblema straordinario di questa esposizione genovese, perché soltanto per la quarta volta in un secolo questo quadro viene prestato dal Museum of Fine Arts di Boston, che lo concede eccezionalmente per questa circostanza. In Europa si è visto soltanto un'altra volta, nel 2003, al Gran Palais di Parigi e questo che adesso estraggo prezioso dalla mia biblioteca, questo è il catalogo di quella mostra, Gauguin-Taiti, del 2003 appunto al Gran Palais di Parigi, la sola altra circostanza nella quale questo quadro venne esposto in Europa. Il quadro rappresenta assolutamente la sintesi tra ciò che è il viaggio di esplorazione, Gauguin che parte dal porto di Marsiglia e arriva addirittura così agli antipodi, a Tahiti appunto, e rappresenta anche il viaggio interiore, perché la storia dell'uomo in questo dipinto è totalmente raccontata, la storia di colui che è partito da un luogo va verso uno spazio che ormai è completamente sconosciuto. La mostra si chiude con un nucleo sensazionale di opere di Vincent van Gogh, addirittura 40 e assieme ad esse una decina di lettere originali che per la prima volta vengono esposte in una mostra in Italia. Van Gogh che rappresenta la summa, l'unione di tutte le idee del viaggio in questa esposizione. Van Gogh che fa un viaggio come esplorazione, che non è soltanto un viaggio di esplorazione geografica, ma anche un viaggio di profondissima esplorazione dentro a se stesso. Van Gogh che sperimenta lo spostamento fisico dall'Olanda ad Anversa, ad Anversa a Parigi, da Parigi al sud della Francia e poi nuovamente nel nord, vicino a Parigi ancora a Dover, dove muore nel luglio del 1890 e ovviamente più di ogni altro e più di ogni altro artista di tutti i tempi, il viaggio nella profondità di se stesso. Allora non poteva che essere Van Gogh colui che chiudeva in modo sublime e in modo sommo questa esposizione e questa esposizione si vuole proprio chiudere nel senso dell'unione tra la pittura, il disegno e le lettere originali di Van Gogh, come se il senso più profondo, più vero di un viaggio non potesse che essere quello che si raccoglie attorno all'armonia che si viene a creare tra la parola e l'immagine. Soltanto due anni fa il team predisposto a questo del Van Gogh Museum di Amsterdam, dopo 15 anni di lavoro, ha realizzato la nuova edizione delle lettere di Van Gogh che sono qui davanti a me in questo momento, sono sei volumi, io estraggo da questo preziosissimo cofanetto uno di questi volumi, l'ultimo per la precisione e da queste lettere il Museo Van Gogh ha estratto un corpus di una decina che verranno esposte a Genova. Van Gogh quindi verrà rappresentato come non mai è stato rappresentato in Italia, con una qualità straordinaria di pittura, la grande e più importante versione del seminatore, i dipinti degli ultimi giorni della sua vita a Dover, il celeberrimo autoritratto al cavalletto realizzato nelle ultime settimane del suo soggiorno parigino all'inizio del 1888, ma molto spesso nelle pareti di Palazzo Ducale a Genova noi incontreremo delle sequenze assolutamente mirabili, non posso che definirle in questo modo, dove il quadro gareggerà con il disegno e a sua volta gareggerà con la lettera, lettera nella quale lo schizzo dello stesso quadro verrà inserito, allora Van Gogh chiude questo percorso perché il viaggio non poteva assolutamente andare oltre. Grazie a tutti!